Nell'ambito della realizzazione degli ospedali riuniti Marche Nord si era deciso per motivi di Covid di spostare il reparto di materno infantile a Fano. Chiaramente nessuna pregiudiziale nei confronti di Fano, che è un ottimo reparto, ma quello che noi abbiamo chiesto fortemente al Presidente Acquaroli e alla Giunta, quello di garantirci che una volta terminata questa fase pandemica si ritornasse all'origine, in quanto l'ospedale di Pesaro nella Palazzina F ha ospitato sempre questo reparto, ha fatto moltissimi investimenti, i numeri sono assolutamente buoni, è un reparto di eccellenza, quindi sia i medici che tante famiglie ci hanno chiesto questo ritorno. Quindi c'è stata la volontà politica, molto importante, a differenza della precedente giunta, di riportare questo reparto a Pesaro. Ecco, il calare dell'emergenza è una precondizione necessaria, ma naturalmente la logica porterebbe in automatico a riaprirlo, però bisogna appunto che ci sia un impegno politico sostanziale alla base per fare questo passo. Assolutamente sì, perché la Palazzina F, come tutti sappiamo, è occupata adesso con tutti i pazienti Covid, quindi non si può minimamente pensare di ripristinare questo reparto prima che sia terminata la fase pandemica. Successivamente a questo provvedimento di spostamento non c'era stata la volontà politica della precedente giunta di riportare o meno di impegnarsi a riportare a Pesaro questa. Quindi ancora di più per questo motivo è un risultato veramente importante. Tengo però sinceramente a precisare che sono un po' dispiaciuto perché il risultato è un risultato molto importante. Qui non è una guerra che è più bravo e più veloce ad ottenere i risultati, però purtroppo la minoranza del Partito Democratico ha la presunzione da un lato di criticare legittimamente l'operato della giunta e della regione in tante situazioni e cerca anche di prendersi meriti i provvedimenti che non sono i suoi. Questo, secondo me, è sinceramente troppo. Grazie. Grazie.